La polizia in sinergia con la vigilanza privata ha sventato un furto di carburante agricolo ai danni di un consorzio agrario provinciale di Contrada Gaspanella a Vittoria. Questa mattina infatti una volante del commissariato è intervenuta nel consorzio agricolo dove una guardia giurata nel corso del consueto giro di parlustrazione aveva notato che i pozzetti a terra dei serbatoi del carburante agricolo erano stati divelti. Gli agenti hanno notato che un tubo di gomma era introdotto all'interno di uno dei serbatoi e all'estremità era collegata una pompa elettrica a sua volta collegata ad un cavo lungo 50 metri che portava sul terreno limitrofo dove era rinvenuto un gruppo elettrogeno per alimentare la pompa. Inoltre vicino al generatore di corrente è stato trovato un grosso autocarro Iveco sul quale erano sistemati otto serbatoi da mille litri ciascuno, alcuni vuoti dove sarebbe dovuto confluire il carburante da asportare. L'autocarro è risultato rubato la notte prima dal mercato ortofrutticolo di Vittoria e fatto uscire abbattendo un muro del perimetro. Tutto quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sono in corso gli accertamenti della polizia scientifica.